Con i miei figli, oltre all'European School of Economics, ho costruito una piattaforma tecnologica dove artisti o sportivi possono incontrarsi su questa piattaforma e fare musica insieme. Fare business insieme, promuovere, creare e questa realtà, sempre per quel processo e quello incontro-scontro con l'antagonista, è stata copiata. Da Google. Ed è questo quello che succede a chiunque abbia un'idea importante. Quindi ci sono molti giovani qui e la sola cosa che posso dirvi è che il mondo delle idee è il mondo delle cause. Il fatto che qualcuno possa copiare quell'idea significa che quella idea è grande. Non abbiate paura perché nell'invisibile è tutto registrato. Se l'idea è vostra, non avete bisogno di patente, di registrazione o tutte quelle cose. Perché la creatività, spread out in all the world, si distribuisce in tutti gli esseri, tutti sanno. Quindi per cui la capacità di intervenire sul proprio essere è magica. Se voi conoscete la strada per toccare le parti più nascoste dell'essere, voi potrete cambiare il mondo. Il mondo è come tu lo sogni. Vi ringrazio. Grazie.